La riunione è stata chiesta di improvviso, stamattina poco prima delle 10, dall'assessore all'urbanistica Lorenzo Spallino. Nemmeno un'ora dopo la giunta comunale si è riunita in maniera informale, o carbonara se si vuole, per ascoltare i pareri dello stuolo di avvocati e consulenti legali, comaschi e non, sulla Ferticosa. O meglio, sulla proposta di divorzio consensuale avanzata da multi, così da lasciarsi una volta per sempre e restituire l'area di Via Grandi ha un futuro tutto da costruire. E dunque, sebbene non ancora tramite carte ufficiali, la giunta stamane avrebbe detto sostanzialmente sì, la proposta della società che non vede l'ora di abbandonare Como è interessante, accoglibile in linea di massima. Orientamento non solo politico evidentemente, visto che anche i pareri legali sembrano andare nella direzione dell'intesa con multi, chiudendo ad un botto 11 anni di progetti mai realizzati e tutti i contenziosi in corso o potenzialmente in arrivo. Persino la partita economica in questo senso sorriderebbe o quasi a Palazzo Cernezzi. Se è vero che la fideiussione da 3 milioni depositata dai privati nel 2006 a garanzia dell'intervento difficilmente entrerà nelle casse comunali, è altrettanto probabile che l'amministrazione non dovrà ripianare con un solo centesimo l'abbattimento dell'ex corpo AC della Ticosa, demolito da multi nel 2007 con una spesa di 750 mila euro. Resta il nodo bonifica, 6 milioni e mezzo di euro spesi da Palazzo Cernezzi, anche se l'esborso sarebbe dovuto essere in gran parte a carico della società. Ma siccome una pulizia dei terreni era necessaria prescindere, è facile immaginare che un'intesa si troverà, a breve tra l'altro, così che poi il Consiglio Comunale possa ratificare o eventualmente bocciare la chiusura di un capitolo per aprirne su carta bianca un altro, l'ennesimo.